Dottore Fulciniti, si è ridimensionato molto il numero degli ospiti del Regional Hub Sant'Anna, questo dovuto a che cosa? La motivazione vera è praticamente sconosciuta, in quanto c'è da considerare una cosa che i dati statistici dicono chiaramente che gli sbarchi sono diminuiti in quest'anno in maniera significativa. Questo di conseguenza ha comportato che la presenza attuale degli ospiti all'interno del centro è scesa diciamo intorno alle 600 unità. La cosa drammatica è che questo ha comportato come logica conseguenza una diminuzione nel numero del personale addetto allo svolgimento delle varie attività. È una cosa drammatica, è una cosa fra l'altro che l'amministrazione giudiziaria ha cercato di prevenire e possibilmente risolvere in ogni modo. Tant'è che faccio presente che già dal mese di marzo era stata esperita una prima situazione cercando di ridurre le ore lavorative degli operatori. Questo per permettere il loro mantenimento. Purtroppo il numero degli ospiti è continuato a scendere e un'ulteriore possibilità è stata rappresentata dal periodo estivo durante il quale nei tre mesi, giugno, luglio, agosto, circa 40 unità al mese di personale sono state mandate in ferie. Per consentire chiaramente la salvaguardia del posto, al perdurare della diminuzione del numero di ospiti, ahimè, è scaturita una cosa dolorosissima che l'amministrazione giudiziaria non avrebbe voluto mai. In quanto vorrei ricordare che l'amministrazione giudiziaria gestisce il bene per conto di chi appartiene. Questo significa che ove mai un domani ci dovesse essere una risoluzione positiva dell'iter giudiziario chiaramente l'amministrazione giudiziaria deve restituire il bene da chi l'ha ricevuto possibilmente non solo in attività ma ove possibile anche con qualche dato positivo in più.